Qua erano interati, non mi sembra. Eh, ok. Questa qua è l'altra missione. Pubblico bloccato. Oh no, trovo il modo di entrare a una stanza per ericare l'illuminatore per la geografia. Eh, ma dov'è che siamo lì? Laboratorio e bisnosi. Eh, infatti sono tutti ipnotizzati. Ok, vediamo qua. Una specie di tac anni 50, cos'è? Ah no, questo è un altro di quei giochini del cavo. Eh, sì, ma il riferimento qual è? Questo. Cioè, tutti i contorni è sopra bloccato. Eh, sì, si vede là, ok. Quindi pieno, pieno, pieno. Non ci si vede là, ok. Cioè, pari qua non l'arriva. Ok. No, per il cao qua, ok. Sì, sì. Perfetto, il tuo sito è buono? Ok, siamo pronti. Apriamo la porta per il signor Warren, per favore. Usabilità sequestro... Ce la spieghi prima o poi? Vediamo. Corpo durata PNG? Cos'è? Portable... I nemici sono immuni, però in un altro modo puoi sconfiggere questo tipo di nemici. Aspetta, come c'è? Così che fa? I nemici poco assoluto possano sequestrati. Combatteranno al fian... Ah, ok, combatteranno al fianco. Ho avuto anche quest'arma qua. Quindi questo qui spara solo esclusivamente quando... Quando è praticamente carencata. Cioè, alla fine anche questi qui ce li vuole far scoprire un po' la volta. E questa è la verità. Eccolo qua. Ma viene con noi o no? Devo tenere premuto? Qua non lo spiegava però. Ok, spara di tu. Che cazzo? L'ho fatto in tempo. Ok, ok, usiamo la pistolina. Ma la facciamo prima perché questa qua... Mi sembra appunto utile alla distanza in particolare. Mentre non ti guardano magari. Due colpi solo, tra l'altro. Vediamo che dov'è. Ok. No, cazzo. Posso moltiplicarle, no? Posso venire più di uno? Sembra. Vabbè, a parte che è morto subito. Siamo legati alla radiografia. Va bene. Dunque, l'uscita, eh. Qua? Ok, dove c'era il tizio. materiale. Ok, fascicoli. Allora, richiesta, eh? L'oggetto... ... ... ... ... Ok, questo qua l'abbiamo fatto. Ok. Cioè, questi sono morti, o...? ... 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 Ma dobbiamo capirci Qui dicevano Oh cazzo c'è di nuovo il Il C'è di nuovo il chierico La non erano andati tra l'altro Ah ok Ok E qua Eravamo passati Allora dobbiamo tornare su Volevo proprio rifare un attimo Una curiosità magari Perché c'è qualche collezionabile Magari non so Volevo rifare la strada Che poi abbiamo abbandonato per nulla Però non so Ancora non ho capito quella cosa Cos'è successo esattamente Siamo arrivati lì Timer è sparito C'erano le creature da eliminare Poi Ho fatto un passo indietro Mi è sembrato a me E sono sparite Appunto In questione di timer Però mi sembra anche stupido Perché voglio dire Se non Cioè mi sembra strano che sia il timer Perché voglio dire Se tu mi dai 15 minuti no Poi i combattimenti durano 5 minuti Dove tenere conto che combattimento Forse dura 5 minuti No è impossibile In teoria è Quando tu metti i piedi lì Quando tu metti i piedi lì Dovrebbe appunto Azzerarsi il timer Quindi o è perché Non erano esattamente nella zona Parlo dell'ultima in particolare Però non ho ancora capito Se sia dato Adesso non mi ricordo più Secondo me l'ultima è proprio fallita L'altra invece Non doveva essere fallita Dovrei riguardare la registrazione Perché veramente È su E noi che siamo tornati qua La tipa È andata su Su Non esiste Quindi non è andata A nessuna parte Diciamo che forse L'hanno teletrasportata La Neanche L'hanno fatta apparire La appunto Ah ok Niente Ok Ok Ah beh Nascostatore per arrivare qua Ritual division Quindi questo qui è rimasto bloccato C'è ancora una zona Là in cima Che non conosciamo E poi quella parte di là Poi appunto Non potendo zoomare È una menata Quindi in teoria Dovevo andare Manutenzione Corriorio di accesso Forse sì Tornando indietro Comunque Comunque Adesso ho finanziato Io la richiesta Proviamo ad andare Accendiamoci giusto Polaris Se l'aveva chiamato Se viene in mente Allora Sono mappe un po' Indecifrabili Qui c'è solo Un ascensore Quindi non può essere qua Questo qui Boh Eppure c'è qualcosa C'è una cassa Come si fa Da prima questo affare Io non capisco Perché non ti fanno Neanche zoomare Non ci sono i livelli Non ti fa zoomare In parte Ti dà un'area Di mistero Però Un po' esagerato Comunque Sì Ventilazione Noi in teoria Dovevamo farlo Da sala di controllo Mi sembrava No Non è forse Le dueci ventilazione In realtà No Forse La dueci convertitore Di energia Eppure Manutenzione Centrale Trovo La lavorazione Di roccia nera E da là Mi sto incasinando Davvero Poi ho i miei problemi Diciamo così Noi siamo in ventilazione Forse Forse Me yungo Para d'acqua Noi siamo in ventilazione Noi siamo in ventilazione Però Andiamo a prendere questo ascensore qua Ma non è questo Quello per andare al coso Era l'altro Perché ci fa andare qua Con il nostro accesso Settore di contenimento Ma no Qual'era questo? È un uovo Non so, mai andate mi sembra Ma c'era l'ascensore Quello che ci portava dove c'era l'estrazione Della roccia nera, no? Cazzo Ho tolto il sottotitolo Stai babbeo Eh Adesso Pericoloso Pericoloso dice C'è il contenimento centrale Comunque non è questo Io non so perché ci fa venire qua Era quella zona là dove c'era Che abbiamo dovuto sbloccare la ventilazione Eccetera, no? Là mi sembra Che se andasse Perché parla di manutenzione No, la lavorazione è roccia nera Ma Poi questa cosa che ti fa sparire i sottotitoli È veramente una stronzata Perché dicevo Cioè il gioco È stato spazzato C'è il C'è il Sono usciti i DLC Avranno spazzato i DLC E nessuno gli ha detto Che c'è la cosa che si perde Che se tu apri un cavo di menù Non c'è più il sottotitoli Adesso facciamo questa prova qua un secondo A me sembrava anche qua Che fare? Ma dai È chiuso? Vabbè C'era anche stato chiuso Qua Non era questo che ci portava Al costo della roccia nera Cava di roccia nera Non c'entra niente Questo è così via Adesso in teoria apriamo Come no? Come no? Ma scusa Ci ha dato qualcosa anche a lei Siamo a 4 Ecco lo vediamo tra l'altro 4 Oh cavolo Davvero non si va di qua Allora si va da dove? Vediamo una nuova zona là Non ho capito Sì Mi sa che siamo troppo alto Nuova allerta 19 minuti Vai al dipartimento comunicazione Ma se è rumore Che cavolo è? Sembra che c'è qualcuno che cammina sul tetto Come al solito Andiamo a riguardare Dipartimento comunicazione Non dice nient'altro Vai sempre qua Si Ci andiamo da qua No Un mistero un po' Questo gioco Poi appunto C'è i miei problemi Qua non mi aiuta neanche un po' Qui possiamo aprire Che c'è dentro qualcosa Ecco almeno recuperiamo qualcosa C'era solo questo Allora vediamo un attimo Comunicazione Riparto comunicazione Di qua Ancora qua Qua c'è il pneumatico Qua Ok distruggi No dis Quindi Saranno quelle cose Rosse Qua Adesso Faccio Di M Ecco qua Che c'è Ecco Questa qui La fallerò Come minimo Cazzo C'è Non ci credo Veste che voglio Poi testarla In anticipo E' qua E' qua Allora Anni mettiamo Su Fantumazione Dove L'orio Stronto Ma cazzo Si è spostata Dice Che potrei Potrei anche Semplicemente Penso Distruggere I nodi E basta Ce ne manca uno Dove Ma c'è Scrivo 17 O che non l'avevo Visto Boh Non lo so Devo riguardare Il video C'è ancora uno Qui dentro Quindi stiamo Facendo assolutamente Niente C'è C'è ancora uno O è solo quello lì Che illumina Come Se Effettivamente Potrei Prendolo Come Mia schiavetto Ma adesso Abbiamo questo Dove Che sarà Da sopra Ok Si Ci ha dato Appunto Ok Va bene Cazzo Non mi sembra che Fosse Fosse rimasto C'è qualcosa Qua No Ah Ok qua Si Rottura Dunque Dunque Facciamo Facciamo questo Allora Spostamento Rapido Quindi C'è una Qua Se 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 Indica Lì Io Ricordavo Bene ma Non mi ricordavo Che ci fosse Il Non avessimo L'autorizzazione Per entrare La Parlo Di quando Ho preso L'ascensore Quindi qui Poi arrivi qui Non specifica Nulla Siamo qua Marsha Mandagessa L'errorazione Roccianina Nel settore Manutenzione Roccianina Restamento Non di sicuro Andiamo di qua Ah Blackrock Processing In effetti Se non me lo ricordavo Questa cosa Ero così Convinto Che fosse Una questione Di Andare Nella cava Anche perché Avevo mostrato Quella roba là Vediamo un attimo Qua Questo cosa fa Urbino Rom Ah no C'è già A finire Staccarlo C'è Ci possiamo Fidare Qua Giù Cosa c'è Mod arma Eppiché 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 Questo qui Fosse Esclusivo Per rapidità Cadenza di tiro Accuratezza Abbiamo visto Che quando tendo A sparare Tanto Si allarga Un casino Ma qua Si è sempre Staccavo Il rumore Ma Serve Qualcosa A mettere Ah si Serve Per aprire Lì Il problema È appunto Che non Ce l'abbiamo Non posso Correre Con questo Affare In mano È strano 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 A un certo punto Che viene il dubbio Che fosse fuori Ok Allora qua Mi fa vedere Qua Ma non È un nuovo È un nuovo È che c'è Oh Non lo so, le luci sono iniziali, devono essere aperte. Stiamo cercando di ottenere un quarto per la notte. Ciao? Non credo che nessuno sia lì, amico. Vieni, andremo a quel motel che passavamo un po' prima. E' appunto chiuso. E' sempre chiuso. Sono suoni diversi. Il colore forse non bisogna neanche guardarlo. Il suono che è diverso. Anzi che si è ancora chiuso. Però è strano questo nome. E siamo tornati qua. Iniziamo ad andare a vedere cosa c'è. Ok, avremmo dovuto attivare qua, mi sa. E poi... Bisogna attivare qua per poi poter avere il passaggio, evidentemente. E poi ci buttavamo giù. Va beh. Ho capito però adesso. Adesso qua. Adesso qua. Anche qua. Sì, ma... Il problema è che soglia attraverso il motel... È stato lui poi a portarci fuori. Ok. 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 Sì, c'è cos'è che c'è scritto. La legge dei tre. O c'è un view oppure casi no, anche sembra. E siamo arrivati qua Di nuovo E è chiuso Qua Si è aperta qua Bisogna forse riprodurre Un disegno Sembra che stiamo sistemando le cose No dobbiamo solo pulire Ma che cazzo Si è anche qua No questo E No Niente Niente C'è Voglio dire Di per secco Si dovrebbe capire Sta roba Vieni qua Sposti le cose E Riapre questa Che però non c'è Ah ok Bisogna riprodurre questo Ok solo la sedia è sbagliata Ok 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 è una stanza identica in effetti Cambiato un suono Si è aperta qua Cos'è questo? Ok Chiavi adesso Vabbè Ok Mi sa che lo rivedremo Ancora Questo Quindi vediamo Cos'era Un wake Sempre tre volte Ok Ci sono arrivato Direi che Col problemi miei Questa roba qua Mi sta mettendo in crisi Noi Ma è aperta che io Non avevo po' più idea Di che tipo di gioco Fosse in realtà L'ho giocato Tammente poco Che Ho visto solo Che si sparava E che era un po' misterioso Basta Ok